I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti delle leggi per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. L'opinione espressa dai relatori non necessariamente rispecchino quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita in denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 79% e il 73% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con il CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL EUROPE LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora questa sera live trading quindi con me Country Manager Italia TICMIL e breve presentazione TICMIL broker non di l'indesco commissione tra le più basse del settore spread a partire da zero con regolamentazione FCA UK quindi fondi custoditi e segregati separati dalla società assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui prefitti e tutti i tipi di expert o strategie con cui sono permesse e grazie agli oltre dieci server sparsi per il globo la nostra velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,1 secondo. Compriamo diversi mercati ovviamente oltre al Forex e CFD sugli indici tra cui il Futsimib, Materie Prime, Metali Preziosi e il Bitcoin. Ci sono strumenti di trading di ausilio al trader come l'AutoChartis, WPS, Human Click Training, la demo illimitata per i clienti di TICMIL Italia, il termometro Forex Pro. Non ci sono costi su prelievi e depositi, abbiamo un interessante programma partner di TICMIL che mi invito a vedere sul nostro sito internet e poi abbiamo l'assistenza sulla dichiarazione del capital gain con dei commercialisti esterni come Marco e Andrea dove vedete adesso l'email e dichiarativo.com. Questa è la mappa nei nostri server sparsi per il globo, quindi oltre a quello di Londra abbiamo quello di Nord Virginia e Tokyo e gli altri di backup. Questa è una tabella comparativa degli spread sul sito famoso di MyFXbook dove potete controllare anche in real time gli spread e le commissioni. Vedrete che per la maggior parte del tempo gli spread di TICMIL, incluse le commissioni, saranno più basse rispetto ai competitor. Lo capite da questa casella verde che si illumina e quindi significa che le commissioni sono le migliori. Grazie a queste caratteristiche di TICMIL abbiamo superato i 100 miliardi di volume di trading sia a settembre che a ottobre. Ottobre è stato il record massimo nonostante l'ESMA, comunque abbiamo superato i 140 miliardi di volume di trading. Siamo stati riconosciuti come il miglior broker per l'esecuzione, questo signore che vedete con il premio è il nostro CEO Duncan Anderson. Ok, allora ho finito la presentazione del broker. Sì, Sergè, la WPS non è gratuita ma è in sconto del 20% sul sito internet. Trovi tutte le informazioni, questo è il sito internet, dove puoi vedere la WPS, non mi ricordo mai. Comunque dovrebbe essere qui questa zona, ho strumenti, eccola qui TICMIL WPS. Ecco la società BIXFX, una tra le più importanti in questo settore, quindi puoi vedere tutto lì. Ok, allora adesso... Posso sapere in quale paese è presente il TICMIL e quale paese è il principale? TICMIL è a sede a Londra, è un broker globale, ha due licenze, però i clienti europei possono aprire solo con la FCA UK, quindi non possono aprire con la regolamentazione delle SESCELL. Ok, allora adesso passiamo un po' alla situazione del training, perché con le 19 ci sono diverse situazioni da vedere. Allora, però una premessa è d'obbligo, perché come ribadito nei precedenti webinar, questi sono studi e quindi non c'è nessun santo gralle, questo lo devo precisare, quindi non c'è nessuna certezza che questi progetti possano produrre dei gain, quindi il mio obiettivo è quello di presentare degli studi, come dico sempre nella chat di Telegram, anzi mi invito a partecipare perché è lì che poi vado ad aggiornare tutti i vari progetti, si chiama Working Forex. Io ve la giro anche se vedo che non tutti riescono a ricevere il messaggio, io la sto girando in chat, e quindi questa è la chat, Working Forex, quindi se vi fa piacere unirvi è gratuita, vengono qui un po' monitorati tutti i vari progetti, quindi questi progetti qui vengono monitorati attraverso MyFXbook, quindi nel bene e nel male, è solo per capire se hanno qualche sostenibilità nel tempo, quindi nessun santo gralle, non ho la soluzione ai nostri problemi, quindi questo deve essere chiaro. Allora, con queste dovute premesse andiamo a fare un po' di live trading, anche se l'orario è un po' quello che è, perché tra l'altro anche gli Stati Uniti sono in clima di feste di ringraziamento, e quindi la liquidità è un po' scesa. Allora, quanti di voi hanno il termometro Forex Pro? Ok, mi dicono che l'audio non è dei migliori, io ho sempre questo famoso problema con l'audio, però ditemi se... magari alzate un po' il microfono. Ok, sente bene Danilo, per me ok, 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 perfetto. Allora, il termometro Forex Pro, dov'è? Questo sul demo. Allora, è questo qui. Non ve lo sto a rispiegare perché ne abbiamo fatti di webinar, perché vorrei che fosse molto concreto questo webinar, e quindi anche che non durasse un'ora, perché vedo che dopo una mezz'oretta le persone abbandonano comunque il webinar, quindi cercherò di fare un po' tutto in questo tempo. Allora, sul termometro Forex, che praticamente va a controllare le forze e la debolezza di una determinata valuta contro le altre, quindi dividendole per basket, io attualmente sto monitorando una strategia chiamata multi-time frame, cioè che cosa faccio? Partendo dall'H4, vado a comprare la debolezza sull'H4 e vendere la forza. Quindi questo è quello che faccio sull'H4. Sul daily, invece, cosa faccio? Vado a comprare la forza e vendere la debolezza. Mentre sul weekly, vado a comprare la forza o vendere la forza solo se ho un filtro dato dal cotreport. Ora, adesso su MyFXbook, io ho già fatto tre mesi di questa strategia e quindi per me il mese di novembre ha già dato una buona statistica, quindi non voglio andare a rischiare di rominare questa performance perché per me è una statistica buona per questo progetto. Quindi su il multi-time frame non vado a inserire delle operazioni. Però quello che vorrei fare è, visto anche le ultime variabili che funzionalità che Salvatore, tra l'altro non so se c'è in chat, saluto. Ah sì, c'è. Ciao Salvatore. Lui ha aggiunto, vorrei un po' sfruttare un po' questa situazione e quindi vedere di inserire qualcosa basandomi sulle correlazioni. Allora, è un po' tosta come strategia sulle correlazioni, l'avevo fatto già vedere su un altro webinar, quindi magari andatelo a vedere perché sulla playlist di Tickmill su YouTube li trovate tutti. Allora, io partirei però da qui, dallo yen. Allora, bevo un goccio d'acqua. Quello che voglio fare è un po' costruire sul time frame H1, quindi congestione dell'H1. Adesso non guardate questo time frame perché su un demo, adesso poi mi sposto sul grafico, sull'altro conto e apriamo un'apporazione sul basket. Però per spiegarlo, allora io che cosa ho fatto? Qui praticamente c'era una situazione sullo yen di vendita di debolezza, quindi io ho venduto sì lo yen, però che cosa ho fatto? Ho sfruttato un po' le correlazioni, cioè mi sono detto, ok, magari questa indicazione di debolezza non è così chiara, quindi io cliccando sul pulsante F mi apro la tabella delle correlazioni. Con l'idea che devo vendere lo yen, mi vado a costruire una serie di operazioni che ho fatto qui, vedete, per avere un po' un equilibrio su questo basket. Quindi che cosa ho fatto? Praticamente ho comprato euro yen, perché ovviamente se volete vendere lo yen, siccome si trova per la maggior parte delle valute al denominatore, per venderlo dovete comprarlo, quindi dovete comprare euro yen, quindi compro euro yen perché compro euro e vendo yen. E che cosa ho fatto praticamente? Ho ragionato in questo modo. Euro yen, ok, vendo lo yen, quindi compro, scusate il gioco di parole, però purtroppo non so spiegarlo in un altro modo. Euro yen, come è correlato rispetto agli altri? Allora, la maggior correlazione che io vedo è quella con GPB yen e Audi yen e anche NZD yen. Quindi che cosa posso fare? Posso andare a comprare euro yen, ma magari creare una sorta di copertura all'interno del basket vendendo sterlina yen, cosa che poi io ho fatto, perché vedete qui i primi box sono long. quindi qua questa, vedete, la disegno e queste sono, diciamo, le sell. Se non è chiaro qualcosa, scrivetelo così, cerco di spiegarlo meglio. Quindi praticamente ho comprato euro yen e ho venduto GPB yen perché era correlato, sono comunque molto correlati tra loro. Quindi ho creato una sorta di diversificazione e praticamente sono venuto fuori quattro operazioni in long dove io vendevo lo yen e tre operazioni in short. Allora adesso io che cosa posso fare? Adesso il basket è partito bene, quindi mi sta già, mi sta comunque pagando. Io quindi in questo caso ho due soluzioni. Posso o decidere di chiudere, quindi chiudo tutto e amen, clicco qui e mi chiude tutte le operazioni in gain. Oppure questa cosa che poi voglio fare adesso in real e andarmi a chiudere le posizioni che sono in profitto in questo modo. Vedete, ho chiuso e ho queste situazioni qui. Quindi che cosa faccio? Mi rimangono aperte euro yen e NZD. Ok, adesso quando poi questa situazione la farò solo se ho poi un segnale sugli altri basket. Quando avrò ad esempio su euro forte in questo caso siccome io adesso ho comprato qui ho fatto un buy su euro yen quindi ho comprato euro e ho venduto yen quando tornerà un segnale forte su euro quindi quando vedrò la forza su euro mi andrò a coprire questa situazione sullo yen quindi che ne so l'euro yen andiamo a vedere sempre da qui dalle correlazioni l'euro yen come è correlato con gli altri all'interno del basket euro? Quindi su l'euro dollaro è correlato oltre il 65% quindi potrò scegliere tra euro dollaro euro franco e sostanzialmente basta. Quindi quando adesso io ho comprato qui sono long di euro yen quando vedrò una situazione su euro dollaro a favore quindi andrò a coprire questa situazione è un po' quello che ho fatto spiegato oggi sulle fonti non so quanti di voi seguono le fonti però vi spiego un po' forse con un esempio concreto è più chiaro allora io avevo venduto quello che vorrò fare sull'h1 allora avevo venduto praticamente l'euro dollaro qui perché c'era una situazione sul termometro forex che mi diceva che l'euro era debole quindi l'ho trovato qui su questa situazione mi sono andato a giocare un ritorno magari sui minimi che poi non c'è stato quindi per non magari beccarmi tutto questo ritracciamento che cosa è successo perché questo è poi il valore aggiunto del termometro forex è quello che mi piacerebbe trasmettere appunto questo tipo di di operatività che capisco che sia molto difficile perché parliamo di coperture e quindi andare a giocare sulle correlazioni però credo che sia comunque giusto parlarne perché comunque ci sono delle situazioni estremamente interessanti quindi che cosa è successo sapendo che euro dollaro è molto correlato con euro cad quando ho visto che il termometro forex sul cad mi dava debolezza non ci ho pensato due volte a comprare euro cad e infatti poi l'euro cad è partito comunque forte proprio perché della debolezza del cad e quindi mi è andato a coprire l'ossa anche di euro dollaro praticamente stessa sites e rosell quindi io sono andato a comprare il buy di euro sfruttando la debolezza del cad datemi un feedback in chat se è chiaro il ragionamento potessi mettere per iscritto la strategia su h1 non tanto immagino ne sono comunque ne faremo diversi di di appuntamenti fino a fine anno facciamo questo tipo di di operatività e allora facciamo facciamo adesso proprio su un in real un po' complesso capisco che sia complesso però tenete conto che sulla multi time frame è molto facile perché in h4 io mi vado a lo faccio vedere così sul demo allora questa cosa non fatene è meglio avere più time frame come qui ok sull'h4 vedete debolezza io quello che sto facendo io vado a comprare lo yen contro tutti e mi compra lo yen qui audi è forte lo vado a vendere ok quindi mi vende tutti i vari l'audi contro tutte le altre perché su h4 ho una logica contrarian cioè quindi io non credo alla forza l'avendo la forza e la debolezza vado ad acquistarla poi potete anche andarvi a vedere l'indice come è messo e poi andarvi a settare queste cose meravigliose che ha inserito salvatore quindi potete decidere di stopparvi graficamente io comprando tutto lo yen potete decidere di stopparvi qui sotto prendere profitto qui e quindi in questo caso vi date anche un target molto grafico quindi queste cose sono davvero interessanti quindi anche qui ad esempio vi potete prendere qui ovviamente questa è la versione precedente c'è scritto loss l'abbiamo denominata in un altro modo però le sell vengono chiuse quando verrà colpito questo livello e qua mentre su quest'altro livello verranno chiuse in loss allora vediamo di farlo sul grafico h1 allora si mentre sul ah si giusto sul grafico daily vedete che non c'è più quella gestione che avevo aperto perché ogni ogni grafico ha una ogni time frame ha una gestione separata quindi io su questo tipo di adesso mi chiudo queste che non ho fastidio mentre su questo altro sul daily io che cosa faccio quando vedo forza la vado a comprare la debolezza vado a venderla stessa cosa sul cad e sullo yen compro quindi faccio questa cosa tutti i giorni e niente lo vado a monitorare con myfxbook come avete visto però voglio aggiungere una sto aggiungendo appunto una situazione un po' più complessa me ne rendo conto che quella sulle correlazioni però secondo me va attestato perché comunque ci sono delle situazioni che possono essere interessanti ad esempio adesso potrei scegliere tra questi quattro basket anzi no tre perché ho francoforte il cad forte e nzd debole allora adesso vado a lavorare su nzd voglio comprare questa forza di nzd questo lo decido io arbitrariamente che voglio comprare la forza di nzd quindi io devo vendere euro e comprare nzd sul primo ci siete quindi cosa faccio vuoi comprare euro nzd no lo devo vendere ok quindi ho venduto il primo poi che cosa faccio mi vado a aprire aprire e aiutarmi con le correlazioni e la volatilità l'euro nzd con chi è correlato in maniera forte con gpb nzd quindi gpb nzd io in questo caso vado a aspettate che l'orario è anche quello che è lo compro lo vedete che il termometro forex mi ha messo la sell sotto 001 qui e la buy qui ve lo segno vedete io adesso in buona sostanza nzd questo e questo al denominatore si annullano è come se io avessi venduto euro gpb quindi ho un derivato su euro gpb quindi potrò andare poi a lavorare sui basket euro o sterlina se ho soltanto questa situazione però a me questo non interessa particolarmente perché io voglio lavorare sull'intero basket poi quindi è questa la situazione su adesso su nzd poi c'è nzd usd nzd usd lo compro e devo andarmi a trovare un cross correlato con nzd 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 usd scusate per venderlo qual è il primo? è l'82% con nzd yen quindi nzd yen lo vendo ok poi nzd chf lo compro ha una correlazione nzd chf con gli altri secondo me no però vediamo con nzd usd però ho già aperto la posizione quindi non ne vado ad aprire un'altra ha un 60% con nzd cad quindi posso decidere nzd cad di venderlo rimane fuori audi nzd no aspettate perché audi quindi abbiamo detto che devo comprarlo quindi vendo audi e compro nzd ok quindi mi sono praticamente andato a coprire con le correlazioni su questo basket ora lo faccio lavorare domani quando vedrò che magari se va bene quindi mi chiude in profitto chiudo tutto il basket se inizio a vedere che queste una di queste o più posizioni va in sofferenza inizio a lavorarle con la correlazione sugli altri basket ad esempio io non lo so mettiamo che nzd chf vada in sofferenza qui io vado su chf che è forte e mi vado a trovare un cross correlato con all'interno del basket chf per lavorarlo in questo modo lo so è complesso però magari appunto seguite poi la chat nei prossimi prossimi webinar magari riuscite anche a un po' a farlo vostro però purtroppo le correlazioni sono complesse in Italia ci sono diversi relatori informatori che spiegano bene questo discorso uno di questi è sicuramente berlinzani quindi fatevi un po' di ricerche però lavoratele perché queste cose poi da trader bisogna saperle anche se poi non andate a utilizzare le correlazioni però bisogna saperle perché anche ultimamente ho visto un buon webinar di di serghei magala su su sulle correlazioni e quindi andatevelo vedete un po' su internet c'è moltissima roba e queste cose servono perché anche per capire un po' il rischio perché se mi andate a entrare su più strumenti che sono correlati tra loro rischiate di fare danni perché sono tutti correlati tra loro e quindi magari voi volate rischiare solo il 2% però questa cosa non sapevate il discorso delle correlazioni quindi entrate il 2% di rischio su euro dollaro per dirvi e il 2% di rischio su gpb usd però in realtà vi state prendendo un rischio doppio perché praticamente sono correlate ok questa questa è la situazione sul termometro forex allora vediamo se avete domande devo ancora installarlo se mi aiuti ti ringrazio no questo dovete scrivere a salvatore per questo quindi chi ha ricevuto l'indicatore ha anche ricevuto l'email di salvatore per qualsiasi cosa potete contattarlo ok allora questo è un po' la vediamo un po' poi come andrà a finire questo basket correlato su gpb usd però vedete che io non ho su weekly sul daily nessuna gestione di nzd quindi queste qui verranno poi gestite separatamente io dal prossimo mese inizierò a comprare o vendere i vari basket a seconda delle strategie che ho descritto ok allora c'è un manuale scritto no 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 solo webinar perché il tempo purtroppo non ho ci vorrebbe nel senso capisco che sono complessi però vi dovete mettere e lavorarci sopra non è detto che quello che vi ho fatto vedere adesso sia la soluzione perché ci sono anche altri trader che comunque lo utilizzano in un altro modo queste sono solo alcune indicazioni ma non è detto che siano le migliori quindi andatevi poi a cercare le migliori soluzioni col termometro forex però è complesso vi faccio vedere come averlo perché molti me lo hanno chiesto però vedo che alcuni non non hanno ricepito bene come andare a scrivere il messaggio praticamente allora qui c'è su Tickmill Italy vedete che c'è un post lo vedete è il primo post che vedete fissato dove c'è scritto ecco la registrazione del webinar del FX Pro per ricevere gratuitamente l'expert lascia un like e un commento su questo post e condividilo con tutti i tuoi contatti e scrivi una recensione sulla pagina Tickmill Italy se hai lasciato una recensione non c'è bisogno di lasciare un altro sono due semplici passaggi però purtroppo vedo che alcuni non riescono ad eseguirli correttamente la recensione si lascia sulla pagina recensione di Tickmill Italy deve essere veritiera quindi anche se non vi siete trovati bene col broker lo scrivete però va lasciata su recensioni non inviate i messaggi privati perché non non rientra nella negli step richiesti e lascia un like quindi dovete mettere un like su questo post come hanno fatto una trentina di persone e commentare in modo tale che dal commento adesso non voglio farvi vedere i nomi di chi ha lasciato però su Tickmill Italy lo vedete e dopo aver lasciato il commento ricevete un messaggio con il termometro quindi senza altre complicazioni non c'è nulla di strano vi viene inviato semplicemente con con un messaggio su Facebook questo è importante perché altrimenti poi non riesco a capire chi ha eseguito i passaggi quindi se non lasciate il commento il termometro Forex non ce l'avete quindi la cosa importante è comunque venire nella chat di Working Forex perché altrimenti non non riuscite a stare dietro a tutto allora chiudo sul termometro Forex e mi sposto su un altro studio che l'ho chiamato Antigridia io allora forse anche questo è un po' complesso però io ci credo particolarmente su questo mi piace particolarmente perché questo nasce un po' dalla mia esperienza che in Tickmill ma anche come trader comunque come approccio che vedo in linea generale da parte dei trader si chiama Antigridia perché praticamente lo scopo è quello di lavorare in modo contrario alle griglie cioè le griglie saprete sicuramente meglio di me quelle griglie che vanno a prendere take stretti magari sono costruite per prendere take profit molto stretti ma lasciano correre le perdite perché nella convinzione che queste perdite queste comunque perdite momentanee possono essere riassorbite perché il Forex si dice che per il 70% si muove in laterale quindi è adatto strategia in martingala questo è un vero secondo me sempre a mio avviso è vero fino a un certo punto perché comunque poi capita sempre magari quel cigno nero visto che siamo in clima di festa e ringraziamento e quindi può capitare quel cigno nero che praticamente ti spazza il conto è quello che un po' vedo che è quella che è la mia esperienza quindi da qui ho creato è in fase comunque sempre di definizione perché sono sempre comunque studi e a mio avviso non si smette mai di imparare sul in questo settore e quindi sto creando un po' questa questo questo tipo di strategia praticamente che cosa fa allora si entra sull'ultimo swing eh la sapevo questa domanda Pietro non è sinonimo di anti martingala è anti griglia perché fa il contrario delle griglie però che cosa fa questa strategia praticamente entra con massimo tre contratti escluse però le posizioni che sono già in gain dai giorni precedenti e entra su G-swing che cosa sono G-swing per questo tipo di strategia allora lo swing short viene fatto viene creato da delle candele ribassiste quindi adesso molto concretamente c'è ehm una candela ribassista qui ribassista ribassista arriva una candela verde contraria per me crea questo swing che poi me lo identifica anche un RSI a due periodi praticamente è come se mi creasse dei supporti o delle resistenze quindi che cosa faccio molto banalmente qui sotto vado a piazzare un surf stop questo surf stop viene coperto con uno stop loss che è pari al massimo relativo della giornata quindi in questo caso il massimo è qui più la volatilità la massima volatilità che l'euro dollaro fa questa cosa l'ho spiegato sempre nel nel webinar nei precedenti webinar che attualmente è pari a 25 pips ora lo facciamo in real time perché si è creato adesso e quindi si può entrare allora qui sono tre sell anche su questo poi si sta creando un expert con salvatore quindi sarà un semi automatizzato quindi semplicherà molto la vita allora qui ho in linea di massima avrei tre sell quindi massimo tre contratti però non viene conteggiata quella sell che sta guadagnando da diverso tempo che è questa qui che è stata aperta ieri e ha brecchimer quindi non fa parte del del conteggio della giornata quindi io sono autorizzato tra virgolette a inserire un'altra sell stop quindi la vado a inserire in questa situazione su questo minimo qui questa zona perché candela ribassista 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 arriva la verde che mi fa il segnale in chiusura quindi di respiro quindi questa io le chiamo barre contro contro trend perché questa ribassista 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 rialzista quindi per me si è chiuso uno swing quindi questo sarà un supporto l'ultimo supporto che non è stato ancora testato dal mercato quindi io vado a posizionare una sell stop questa sell stop che adesso ho inserito qui avrà lo stop sul massimo relativo più 25 pips quindi 25 pips da qui sono in area 1 14 50 quindi vado a inserire lo stop adesso non è che poi allora se dovesse entrare adesso l'ordine non è che aspetto che mi arrivi lo stop a 1 14 50 no semplicemente vado a coprirmi sull'ultimo swing rialzista qual è l'ultimo swing rialzista è questo barra rialzista rialzista arriva quella contraria quindi mi fa questa sorta di di picco lo vedete quindi questo è l'ultimo io qui sopra piazzerò una buy stop la buy stop avrà lo stesso ragionamento quindi mi prende lo stop il minimo relativo che è questo più 25 pips vi è chiaro il il concetto di swing allora cancello sì sono contento questo questo è più semplice è molto perché qual è lo scopo è quello di che nelle situazioni laterali di non farmi fregare perché cosa accadeva che io spesso magari entravo in questi in queste situazioni magari entravo short e mi andavo a stoppare sui massimi sui massimi relativi e puntualmente magari l'eurodolo faceva su e giù quindi nelle giornate molto laterali come queste qui che sono molto laterali magari prendevo una valanga di stop e quindi il ragionamento qual è è che ok io comunque lo stop te lo metto ma te lo vado a calcolare sulla volatilità quindi la volatilità adesso euro dollaro quando si muove su in modo forte statisticamente il il maggiore impulso che dà euro dollaro in un'ora quindi in un h1 è di 25 pips quindi io dal massimo mi vado a stoppare di 25 pips però che cosa succede che io adesso non credo che siamo così fortunati di avere adesso uno strappo ribassista però per farvi capire io adesso ho queste tre buy 1,14,06 queste tre buy che verranno stoppate in quest'area qui in quest'area quando andranno in stop le buy io mi troverò con tre sell ora per non per non rovinare troppo per non beccarmi troppo drawdown non è che le sell non le gestisco mi troverò con tre buy che sono andate in stop le tre sell magari due sceglierò di gestirle in tre in stop in modo tale da comunque anche se chiudo magari con tre buy quelle due sell comunque le ho protette con un training stop e quindi avrò un loss magari minore oppure se la discesa è molto marcata magari ho anche il guadagno e l'altra invece la faccio correre per quanto tempo devo farla correre? allora questo è un discorso un po' particolare che però sto facendo uno studio molto interessante che mi sto calcolando la potenza degli swing cioè sto calcolando praticamente l'euro dollaro quando parte voglio sapere che potenza mi dà in termini di pips prima di venire a prendermi il mio brecchiman cioè voglio capire ad esempio io ho questa sell qui che è chiusa a brecchimene o una buy che anche qui è stata chiusa a brecchimene quindi praticamente sta lavorando all'interno di questo box mettiamo che una delle due venga tolta perché magari adesso arriva short qui e questa sell continua a guadagnare io voglio capire statisticamente che potenza ha questo tipo di ribasso prima di rimanire a vedermi quel prezzo lì dove ho la sell dai primi studi che sto facendo mediamente l'euro dollaro ha una potenza di dai 170 ai 300 pips quindi quando ad esempio dovessi vedere che ne so che una sell mi sta correndo bene per oltre 170 tra questo range di 170 o 300 pips sarò autorizzato a chiudere eh quell'operazione perché statisticamente è una buona ha corso abbastanza bene per andare a per andare a chiudere quella posizione però secondo me questo tipo di di progetto può essere sostenibile solo se si sceglie di fare correre le posizioni perché altrimenti non non si riesce quindi però capisco che magari non è un sistema forse adatto a tutti perché appunto far correre a parole è molto facile però magari adesso con sites piccole questa cosa qui può essere anche facile però poi con quando hai sites grosse quello forse per collegarmi anche poi la domanda di Pietro sull'antimartingala il grosso limite a mio avviso dell'artimartingala è avere non voglio essere è avere con quel fegato ecco di gestire sites molto grosse e quindi vederle in forte guadagno e non toccarle praticamente fino a che non arrivano al target stabilito quindi quello secondo me è un grosso limite non è per tutti questo tipo di approccio però io su questo tipo di conto come ho accennato anche nel webinar c'è un progetto che è stato pensato per chi magari è sottocapitalizzato perché questi 1400 euro magari è un conto che è poco capitalizzato quindi che cosa ho pensato di alimentarlo mese dopo mese attraverso un pack un piano di accumulo chiamatelo come volete dove potete mensilmente andare ad aumentare il capitale e di conseguenza anche la sites perché lavorare con 0 con 10 centesimi a contratto è molto basso quindi però per non far scoppiare il conto questo tipo di progetto ha 10.000 pips di margine perché se fate su 1.000 euro con una sites da micro lotto di 001 avete come se aveste 10.000 euro di margine quindi se poi riuscite ad aumentarlo negli anni il conto io ad esempio vorrò fare e ve lo dimostrerò con i fatti cioè spero di farlo con quindi seguitelo perché è molto secondo me è anche molto interessante con un pack mensile da 500 euro cioè io questo conto qui ogni mese ci metterò 500 euro per farlo salire di capitale e sperare che ovviamente vada a guadagnare anche di come performance perché altrimenti non avrebbe alcun senso se non è automatico se è disponibile ma ne abbiamo fatti diversi anche noi gli expert come antimartingale però non per quella che è la mia esperienza non guadagnano cioè allora questo tra l'altro un po' anche in antimartingale lavora perché comunque il discorso è che teoricamente lasciando correre le posizioni comunque ti potresti trovare con diverse sell che magari stanno guadagnando il problema degli expert è riuscire a calcolare la potenza del ritracciamento perché se ovviamente hai un aumento se scende o sale in verticale tu guadagni sei ricco ok però quanti di voi l'hanno visto questa situazione io sinceramente pochissime volte è a volte anche molto frustrante perché io stesso a me piace moltissimo come approccio secondo me è uno dei migliori ma può essere anche molto frustrante perché magari voi azzeccate anche la view e dito ok io con la view era esatto io l'avevo fatto sull'euro franco mi ricordo sull'euro franco quando era 1.05 io vivo in Svizzera quindi mi sono detto su euro franco voglio andare a comprare euro franco e farmi un'anti martingala ok la view era esatta perché è arrivata a 1.15 quindi mi ha fatto 10 figure però non sono riuscito a ricavarne nulla perché ovviamente ha fatto troppi ritracciamenti e mi ricordo uno in particolare sulle lezioni francesi dove mi ha buttato fuori guadagnavo diversi diversi importi e però mi ha buttato fuori proprio per un ritracciamento quindi bisogna andare un po' se avete trovato un sistema del genere che riesce a calcolare in maniera perfetta i ritracciamenti di ogni singolo strumento perché poi lì ognuno ha la propria volatilità secondo me tenetelo e se poi volete condividerlo ben venga però non mi parlate di sistemi che guadagnano così senza fare nulla perché non ci credo non è molto difficile però eh non è sempre così non è sempre così perché il money management ovviamente sì fino a un certo punto ma devi devi avere anche molta fortuna però ovviamente se hai avuto comunque delle situazioni favorevoli per te ottimo comunque sì il concetto di anti martingale è anche messo in questo progetto qui quindi lo tengo presente e mi piace particolarmente ok vediamo se entra questa sella questa bike qui adesso vedete quindi mi vado a ritornando al discorso dello swing questa sell praticamente se entra la sell verrà coperta dalla buy e se entra la buy qui ovviamente verrà coperta dalla sell se si crea un altro swing adesso nel corso del delle prossime ore comunque ovviamente vado a prendere il miglior swing disponibile quindi se me lo fa qui ovviamente abbasserò questa entrata e sostanzialmente questa è la situazione l'ultima cosa che voglio aggiungere è sul filtro perché sto dando un filtro a questo tipo di strategia cioè quando ho una situazione favorevole dove quando una situazione una tendenza del cot report favorevole cioè che i grossi speculatori sono short con forti contratti e i retail anche sono long perché vado contro i retail quindi se la maggior parte dei retail è long andrò short e viceversa la precedenza dell'entrata l'avrà la short ok quindi oggi era un elettorale quindi non c'era nessuna tendenza perché sul cot sono state ridotte le posizioni sulle short dell'euro e i retail sostanzialmente sono in equilibrio perché hanno il sono sul 50% sulle fonti che sto analizzando e e quindi e quindi praticamente entro sul primo swing disponibile il time frame è l'M15 ok avevo iniziato sull'M30 però l'M30 è un po' troppo lento non riesco a gestirlo bene come magari l'M15 per la volatilità io uso l'ATR a 100 periodi perché ah grazie sì per la domanda sul se esiste il brecchiman sì perché ovviamente io mi posso trovare con delle posizioni esposte e magari è meglio proteggerle nel senso che se io entro selling questo questo swing short vedete rossa rossa verde quindi si è creato questo swing io entro short qui poi se ne crea un altro in questa situazione io la prima la metto a brecchiman per non avere un'esposizione troppo netta perché poi se mi parte contro magari non sono così protetto quindi è meglio sempre stopparsi a brecchiman quando entra un altro swing quindi se vi entrano due swing consecutivi o ne possono entrare anche tre è meglio sempre comunque proteggere quello più vecchio ok purtroppo non entra la non vuole entrare la sella prima della fine del webinar purtroppo non c'è c'è poca volatilità ok allora ah questo qui anche su myfxbook allora dove qui sono tutti questi sono un po' tutti i vari studi c'è quello che va meglio sul teleometro forex sono c'è qualcuno che va male quest'altro ho trovato un altro ma un disastro però non avevo solo un deposito di 150 euro quindi era troppo rischioso e su questo qui su questo tipo di sistema antigriglia allora attualmente ha fatto 253 pips adesso in una fase di drawdown e la sfida che eh di questo sistema è avere l'equity gialla superiore alla rossa perché cosa che cosa vi capita spesso di vedere un equity rossa che sale e l'equity gialla che va dall'altra parte che cosa significa che chiudete sempre le posizioni in profitto e lasciate correre quelle in perdita quindi visto che questo ha l'obiettivo di fare esattamente il contrario la sfida la grossa sfida per questo tipo di progetto è avere sempre l'equity gialla quasi sempre l'equity gialla superiore a quella rossa quindi in questo caso il saldo è basso però il controvalore è più alto di solito si vede sempre il contrario la maggior parte adesso non tutti ovviamente però più volte per le griglie si vede questo tipo di approccio ok allora io avrei finito purtroppo non sono riuscito ad essere volevo essere più vediamo un po' le domande poi le mando qualcosa che potrebbe interessare non ho capito domenico forse sì sull'Andy Martingala ok 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 altre ok per me va bene così perché purtroppo non vuole entrare l'operazione però vedete il sell stop era su questo swing adesso se se ne crea un altro quindi sul verde vado a piazzare la sell qui qui sotto va bene grazie a tutti allora vi auguro una buona serata grazie a tutti